Sbarca a Viareggio il Versila Iocci in Grande V, il nuovo salone internazionale dedicato alla nautica di alta gamma. Al centro della manifestazione un'esposizione divisa in cinque aree tematiche, con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità dell'industria nautica che proprio in Toscana e in Versilia ha una consolidata tradizione tra tecnologia e alta qualità artigianale. L'evento che vedrà a Viareggio, capitale della nautica, dall'11 al 14 maggio, è stato presentato dagli organizzatori alla presenza del presidente della regione toscana Enrico Rossi e del sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro. Nella nostra regione ci sono 1.400 imprese nautiche e un quarto dei mega yacht che solcano i mari del mondo sono prodotti in Toscana. Qui sono tra le migliori e più grandi aziende che operano nel settore. Si dà da lavorare, danno da lavorare a qualcosa come 15.000 addetti. Si va da settori avanzatissimi della ricerca fino alla manualità artigianale, fino alla capacità di combinare gusto con tecnologia. Tutto avverrà nelle darsene di Viareggio, dove un centinaio di imbarcazioni, espressione della canteristica italiana e internazionale, costituiranno il nucleo della manifestazione. Il porto di Viareggio è il cuore della città, ma non solo questo, è il cuore della grande industria internazionale, dei grandi yacht. Qui vengono prodotti il 25% degli yacht internazionali e necessariamente questa iniziativa permette di valorizzare questo grande patrimonio che è la città di Viareggio. L'evento ideato da Nautica Italiana è organizzato da Fiera Milano in collaborazione con il Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, con il sostegno di Regione Toscana e Comune di Viareggio, con l'intento di coinvolgere il comparto e le associazioni di settore nazionali e internazionali. Grazie a tutti.